Nel 1993 nasceva la Punto, un'auto già avanti quando queste erano le radio, questi i climatizzatori e questo il navigatore. Oggi la nuova Punto è avanti come allora, con radio CDMP3, clima, TomTom Go Live integrato e ESP. Tutto incluso a 9.800 euro, con anticipo 0, TAM 0, TAIG 410. Celebra i 20 anni di punto su punto 20 punto 4 ruote punto it. Puoi vincerne una.